Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cobra Kai. Venerdì scorso l'account ufficiale di Cobra Kai e quello di Netflix hanno rilasciato il nuovo teaser trailer di Cobra Kai 5, contenente tante nuove immagini esclusive che vedremo negli episodi della quinta stagione, ma anche la data di uscita ufficiale che non è proprio quello che ci aspettavamo. Nel video di oggi faremo un'analisi dettagliata, minuziosa, frame per frame, delle scene che ci sono state mostrate nel corso di questo teaser. Così da fare anche diverse teorie sulla prossima stagione, sui personaggi, sulle varie dinamiche e anche confermare le certezze che saranno un punto saldo per la prossima stagione. Inizialmente ci viene mostrato ciò che è successo nella passata stagione con la 51esima edizione del torneo All Valley, che come sappiamo ha visto come vincitore il Cobra Kai, con delle scene ritraenti, delle gare, delle abilità, che sono state una novità per questa edizione del torneo All Valley, e inoltre delle varie scene di alcuni combattimenti uno contro uno, come ad esempio quello tra Tori e Samantha, ovvero la finale della torneo femminile. Ci viene poi fatta una panoramica dall'alto di tutta l'All Valley con il Cobra Kai visibilmente allargato. E in prima fila al centro possiamo notare Kenny Payne e Kyler Park. Stranamente non è presente Tori Nichols, che ha appena vinto l'All Valley Tournament con il Cobra Kai, quindi sarebbe la merce più vendibile per fare uno spot pubblicitario. Stranamente non è presente all'interno del dojo, dove stanno registrando questa scena. Vediamo poi il nuovo logo del dojo appeso alla parete, dorato, quasi come segno di vittoria, la medaglia d'oro, il trofeo d'oro, il Cobra Kai è d'oro. Probabilmente per questo, forse un segno, un restyle del vecchio Cobra Kai, un pochettino più pacchiano, ma anche che si vuole autoproclamare il miglior dojo. In questo teaser, nello spot, Terry afferma la concorrenza ha chiuso i battenti. Questo a causa degli accordi che erano stati presi dai sensei, Johnny Lawrence, Daniel Russo e Terry Silver, per la quale chi avrebbe perso l'olvalle tornamente sarebbe stato costretto a chiudere il proprio dojo. Purtroppo, o per fortuna per alcuni, però purtroppo, io posso dire purtroppo, il Cobra Kai ha vinto e Johnny e Daniel hanno dovuto chiudere il loro dojo. Vediamo infatti Daniel coprire il logo, l'insegna del suo dojo, ovvero il Miyagi-Do Karate, come segno proprio di chiusura dei battenti. Terry poi continua dicendo L'unica cosa migliore di un dojo pieno, quale il suo, è un'intera valle di dojo pieni. È chiaro quindi qual è l'intenzione di Terry Silver, ma non soffermiamoci su questa frase, non troppo, frame successivo. Terry piazza una pedina con una bandiera raffigurata il logo del Cobra Kai. Subito dopo vediamo un evento di inaugurazione di una grande nuova palestra, con al di fuori l'insegna Cobra Kai e sotto Grand Opening, cioè quindi apertura gigante, inaugurazione, e lì fuori c'è tantissima gente che probabilmente stava entrando, quasi sicuramente, soprattutto molti giovani, molti ragazzi, maschi e femmine. Vediamo Kenny che distribuisce gadget come adesive o borracce lì fuori ed è quindi chiaro come Kenny sia stato ben indottrinato da parte di Terry Silver e sia stato messo come membro partecipe, come un membro attivo dell'organizzazione che Terry Silver ha voluto creare all'interno del Cobra Kai. Un ruolo quindi di rilievo, l'abbiamo visto prima al centro, ora attivo nella pubblicizzazione di questo dojo, frutto questo sicuramente di una manipolazione gigante da parte di Terry Silver, che come sappiamo è un maestro in questo, come abbiamo visto soprattutto in Karate Kid, con Daniel LaRusso, con Kenny, probabilmente, anzi sicuramente farà lo stesso. Ci viene poi mostrata la mappa dell'Hall Valley con tutte le bandierine piazzate. In totale conto nove bandierine, ma ci sono altre sei piccole caselle che sono invece vuote, segno che il piano di espansione, il piano imperialista di Terry, sta procedendo e non è ancora terminato, nonostante abbia aperto nove dojo. Nel suo restyle ha cambiato anche l'insegna e i colori storici del dojo. Dal giallo e nero, quali erano nel passato con la scritta rossa, ora il Cobra Kai ha due nuovi colori, il rosso e il nero. Terry Silver è un milanista. Sotto quest'insegna possiamo vedere Johnny Lawrence, lì pronto ad entrare con un fare minaccioso, e poco davanti a lui, assieme a lui, sembra esserci Chosen. Lo spot si conclude con Terry Silver, in primo piano, con tutti i suoi ragazzi dietro, che dice unisciti a noi. Lo spot in questione è stato mostrato da Daniel a Chosen, che a quanto pare ha raggiunto l'All Valley. E testualmente Daniel gli dice ecco cosa dobbiamo combattere. È chiaro quindi che Chosen si allera, come era stato previsto, con Daniel LaRusso, e forse anche con Johnny, per spodestare da questo trono che si sta creando da solo Terry Silver. La quinta stagione di Cobra Kai avrà ancora altri richiami al passato, scene di flashback di Karate Kid, che io personalmente apprezzo, perlomeno ricorda a coloro, ai più giovani soprattutto, che questa serie tv nasce dalle ceneri di Karate Kid. Ed è giusto, secondo me, ricordarlo ogni tanto, anche se troppi spezzoni dei film possono risultare un po' pesanti, nel senso che ce li fai vedere sempre, lo sappiamo cosa è successo. No, non è vero. È giusto ricordarlo. Quindi anche nel teaser, anche in questo teaser trailer, è stato inserito dei pezzi, ecco, che fanno capire un po' anche magari a chi non conosce questa serie tv, che è il continuo di Karate Kid. Infatti vediamo una scena presa da un film di Karate Kid, dove, tra l'altro è anche una scena emblematica, dove c'è Terry Silver all'interno del Miyagi-Do, con lì presente anche il maestro Miyagi. Tra l'altro, quella è la scena dove si incontrano per la prima volta, quindi, certi richiami sono anche molto importanti e pesanti. Vediamo poi Tori che si allena con gli insegnamenti del maestro, del sensei. Terry Silver, che a quanto pare in 40 anni non sono cambiati molto, si basa tutto sulla violenza, gli allenamenti sono quelli identici, come ci viene anche mostrato, che venivano fatti svolgere anche a Daniel La Russo quando era sotto il suo controllo, quindi, sì, si punta ancora su quello, sulla violenza. Questa scena comunque ci fa capire che, almeno per il momento, Tori Nichols è ancora dentro il dojo di Terry Silver, il Cobra Kai. L'intenzione di Daniel viene poi ufficialmente dichiarata mentre sta parlando con sua moglie, Amanda, il quale gli dice che deve fermare a tutti i costi Terry. Quindi, lo scopo di Daniel in questa stagione sarà questo, fermare Terry. Passiamo poi a una scena bellissima che si viene mostrata in questo teaser dove Terry, parlando con Daniel a Chosen, gli dice stai giocando col fuoco, Daniel. E Chosen risponde e io sono la benzina. I am the gasoline. Stupenda. Tra l'altro, collegato a questo, a questo, appunto, stai giocando col fuoco, Daniel, c'è una teoria. Una teoria che può avere a che fare con il ristabilimento del Miyagi-Do ma sotto la guida di Chosen. La vedremo dopo. Questa con altre teorie. Johnny poi esce da un negozio chiaramente in Messico, come possiamo leggere dall'insegna presente sulla porta a vetro, in quanto l'insegna è spagnola, è lingua del Messico, e poi ci viene mostrato il suo viso con degli occhiali da sole con la montatura rossa e questo ci dà un'altra conferma. Ovvero che Johnny è ancora sempre il migliore di tutta la serie tv. È un grande. Mi piace troppo a me, Johnny. Cioè, Johnny è la mia stima. E soprattutto, è un grandissimo stile. Viene poi ufficializzata una cosa importante, ovvero che Robby e Johnny sono in Messico alla ricerca di Miguel. Punto. Nel teaser vediamo poi che Miguel scende dall'autobus, arrivato sicuramente in Messico, e sua mamma è ancora in apprensione. È lì al telefono, come se avesse appena ricevuto una brutta notizia. O forse è appunto in apprensione, perché suo figlio non gli risponde alle chiamate, forse non gli sta rispondendo nessuno, cos'è successo, mio Dio, mio figlio. Ci sta, ci sta, le mamme sono così. Almeno la mia lo è tantissima, ma sono sicuro che anche tantissime di voi lo sono, perché le mamme sono così, ci vogliono bene. E anche quella di Miguel gli vuole tanto bene. Vediamo poi Miguel, spettatore, in un incontro dove c'è un esagono con dei combattenti all'interno. È possibile che sia uno scontro di MMA o di altre arti marziali o stili di combattimento simili, non so, la lotta greco-romana, il tai chi, non so, può essere tutto taekwondo, non so, qualsiasi, forse la MMA. Ma la cosa importante è che a fianco a lui c'è quello che potrebbe essere suo padre. Dai leak, che erano stati rivelati nei mesi scorsi in prossimità dell'uscita della quarta stagione, ci era stato rivelato che l'attore Luis Roberto Guzman sarebbe potuto essere con una grandissima probabilità il padre di Miguel nella serie tv e che sarebbe apparso nella quinta stagione. E a quanto pare questi leak che in passato vi avevo mostrato si sono confermati veritieri. Potete vederli tutti perché ci sono tantissimi nuovi personaggi, anche nuove ragazze, nuove ragazze, eccetera eccetera, lo potete vedere nel video che vi lascio qui nelle schede. Quindi anche questa questione del padre è una conferma non da poco. Anche Johnny e Robbie arrivano all'interno di quell'arena con una maglia dell'FBI in realtà tarocca perché la sigla è Female Body Inspector e questa è un'altra prova del fatto che le magliette che ci erano state liccate sono vere che indossavano appunto Johnny e Robbie e fa ridere da morire a me questa cosa dell'FBI e Johnny inizia a trovare da dire con uno dei bodyguard, con uno degli energumeri che erano lì appunto per proteggere l'arena e ben presto i due iniziano a combattere. In pochissimo tempo ad averla meglio è il migliore è Johnny Lawrence che con un calcio roteante degno del miglior Chuck Norris ribalta quanto pare il bodyguard. Samantha invece in una sorta di incubo rivede quello che erano le amiche del suo gruppo Moon e Yasmin che riaffioreranno in questa stagione i problemi di carattere di Sam dovuti forse anche a ciò che ha subito nel corso di questi anni. Sentiamo poi la voce di Johnny dire un'affermazione importantissima Tutti sbagliamo a volte ma se ammetti i tuoi errori puoi sempre rimediare. E in quell'istante in cui dice questa frase vediamo apparire viene montata in questa scena Tori Nichols che ha in mano il trofeo dell'Hall Valley che ha appena vinto. Che Tori si unirà al combattimento o comunque alla causa di Johnny Lawrence e di Daniel Russo? Anche in questo caso avevamo teorizzato in modo più amplificato questa teoria che potrebbe che è stata rafforzata ulteriormente comunque ne avevamo parlato anche in questo caso nel video che vi lascio nelle schede. Miguel e Robby continuano comunque nei loro litigi li vediamo nel parcheggio di un acquapark dove appunto trovano da dire e Miguel dice a Johnny riferendosi a Robby non siamo amici. Tori invece persiste ancora nel suo addestramento nei suoi addestramenti duri dove lo vediamo colpire anche in modo molto forte aggressivo i suoi allievi inermi piccoli giovani nella sua testa per insegnargli ad essere spietati ma forse è una grandissima repressione da parte di Terry Silver che però come detto continua a fare del male. Vediamo poi Sam sempre in quello che potrebbe sembrare il suo sogno quindi con lo sfondo nero con in mano il Bo il bastone giapponese che viene utilizzato nei combattimenti che abbiamo visto già più volte nel corso degli episodi di Cobra Kai segno che forse il Miyagi Dov vorrà espandere ulteriormente le proprie discipline soprattutto proprio con l'utilizzo delle armi che c'erano state introdotte nella scorsa stagione e che in questo teaser vediamo un po' di più. Vediamo poi Johnny che con un calcio spezza proprio a metà la tavola di un surfista non si sa per quale motivo forse Johnny in quel momento era a caccia di informazioni per Miguel e quel surfista aveva osato prendersi gioco di lui. Vediamo poi una scena emblematica in cui Miguel si presenta davanti ad un uomo con un cappello da cowboy accompagnato da degli scagnozzi a quanto pare sembrerebbe un malavitoso in quanto ci sono i classici cliché di loro che giocano a poker con la birra magari scommettendo chissà quanti soldi e uno dei suoi scagnozzi ha un orologio bello d'oro segno che è gente ricca ma l'apparenza no due più due Messico malavitoso cliché classico no? Anche il padre di Miguel però era un malavitoso a meno da quello che ha raccontato Carmen e questa è un'informazione che a quanto pare è certa visto che i due hanno divorziato molto probabilmente per questo motivo qui all'interno nonostante sia uno contro tanti adulti Miguel riesce a farsi rispettare e vediamo che avrà un combattimento allo stesso modo avrà un combattimento anche con Robby vediamo poi Terry Silver nella sauna anche qui un richiamo a Karate Kid era emblematico Terry con la sua sauna che dice un'affermazione molto molto importante ti avevo detto di non giocare col fuoco questo come se avesse fatto del male a Daniel o a qualche altro membro della sua famiglia e come sappiamo Terry Silver è spietato e con fare del male si può intendere anche aver ucciso per intimare la famiglia Larusso al termine di questo ci viene però mostrata la data di uscita ufficiale noi avevamo teorizzato nei mesi scorsi che come sempre sarebbe potuta uscire nel gennaio a ridosso di capodanno quindi fine dicembre inizio gennaio e invece uscirà il 9 settembre 2022 una notizia quindi piacevolissima vedremo Stranger Things prima di quanto pensavamo e questo appunto ci rende felicissimi tra l'altro che questa teoria che avevamo fatto sulla data di uscita non fosse sbagliata ce la conferma anche Cobra Kai stesso che nell'annuncio del nuovo teaser scrive proprio questo come descrizione la nostra tradizione di rilasciare la stagione nel capodanno è stata anticipata di qualche mese Cobra Kai uscirà il 9 settembre quindi non è che mi ero sbagliato cioè la tradizione era quella e ci stava che anche la quinta sarebbe uscita come da tradizione l'hanno anticipata benissimo contentissimo e spero che lo siate anche voi infine ultima scena del teaser vediamo Chosen con i Sai i pugnali giapponesi che vediamo appunto in questa immagine segno che dimostra che è pronto per fronteggiare anche in modo fatale se necessario Terry Silver arriviamo quindi brevemente alle conferme che ci vengono date da questo teaser innanzitutto molti richiami al passato come detto con delle scene con dei particolari che rendono lode che rendono ancora più onore al predecessore di Cobra Kai a Karate Kid e tra l'altro ci sono anche delle scene con dei richiami con le stesse inquadrature tipo Robby e Johnny Lawrence mentre sono in macchina che vanno in Messico che è un richiamo anche alla scena dove c'è il maestro Miyagi con Daniel La Russo bellissima come cosa come abbiamo visto poi inoltre dai leak appunto Johnny e Robby andranno in Messico alla ricerca di Miguel e a quanto pare lo troveranno un altro fatto confermato è quello delle magliette Female Body Inspector FBI un'altra conferma e qui si basava sulla nostra teoria è che Terry aprirà una catena di dojo sogno che vorrà monopolizzare l'insegnamento del karate in tutta l'Hall Valley e che voglia forse diventare competitivo proprio a un livello più alto tipo nazionale è stata confermata inoltre la chiusura dei dojo di Johnny Lawrence e di Daniel La Russo Daniel lo vediamo che copre l'insegna del suo dojo mentre Johnny Lawrence va in Messico e chiaramente se è all'estero non potrà mai insegnare ai suoi allievi vedremo poi il ritorno di un personaggio importante e che lo sarà ancora di più quello di Chosen che sarà una vera e propria spalla per Daniel e Johnny e chissà che possa essere lui l'asso nella manica che potrà permettere di distruggere Terry Silver è inoltre possibile che ci sarà una redenzione da parte di Tori soprattutto a livello umano e questa però era già iniziata con la passata stagione quindi questa quasi sicuramente continuerà e potrebbe avere un epilogo buono sperato da parte di molti che quindi si unirà alla fazione dei buoni tra virgolette inoltre come ultima conferma Miguel troverà suo padre anche se però qui ci pone a tantissimi interrogativi cosa gli farà fare suo padre cioè in che strada lo direzionerà sarà questo secondo me uno dei fulcri più importanti della quinta stagione di Cobra Kai è un'analisi molto lunga ma non abbiamo finito ci sono inoltre le teorie da vedere anche qui in modo molto veloce e che sicuramente avremo modo di approfondire con dei futuri video numero uno che il padre di Miguel voglia spingere suo figlio a combattere all'interno di quell'arena all'interno di quell'esagono magari insegnargli anche degli stili nuovi di combattimento esempio a caso nell'MMA è consentito qualsiasi stile c'è chi è bravo nella lotta greco-romana chi nel dare i pugni stile pugilato chi nel kickboxing e essere bravo nel karate probabilmente lo porterà a saper fronteggiare e inoltre avrà anche modo di poter imparare qualcosa di nuovo sicuramente però il suo padre essendo un malavitoso non avrà in mente nulla di veramente buono se non per un interesse effimero personale Chosen potrà inoltre diventare il nuovo sensei del Miyagi-Do o di aprire un dojo a parte per fronteggiare la supremazia del copercai di Terry Silver in questo modo si rifà molto alle scene che sono state dette stai giocando col fuoco Chosen che fa da alleato quindi in quel caso lui sarebbe il sensei e Daniel la spalla però sarebbe appunto un'evoluzione importante avere un nuovo sensei innanzitutto che male non fa e soprattutto potrà insegnare ai giovani ai ragazzi che sono il vero fulcro sono quelli che combattono davvero potrà insegnargli delle tecniche più approfondite orientali che sicuramente sono sconosciute la parte di Terry sarà un counter come dire l'avversario perfetto lo stile perfetto che potrà annullare il stile insegnato da Terry Silver inoltre Tony Nichols si unirà al dojo dei buoni ovvero avrà una redenzione personale ma anche della fazione quindi combatterà per la prima volta contro il Cobra Kai non vediamo inoltre Falco nel corso del teaser se avevate fatto caso il fatto che non ci sia Falco può farci pensare diverse cose penserà forse a un ritiro dalla scena lo sapevamo ci aveva pensato prima dell'All Valley Tournament che però ha vinto che strano perché Falco non c'è a quanto pare era uno dei più forti e visto che Miguel e Robbie se ne sono andati lui è il più forte dell'All Valley in questo momento è il campione in carica e appunto è il più forte a combattere cosa ci riserverà il futuro per Falco e perché non ci è stato mostrato un altro che non vediamo nel teaser ma questo è abbastanza normale è Chris John Chris che come sappiamo è in prigione quindi in un certo senso è normale che non ci sia ma da dei leak da delle notizie dovrebbe essere presente nella quinta stagione e verrà mostrato un tratto un po' più sentimentale di questo personaggio un tratto un pochettino più interiore verrà fatto un'analisi di un John Chris buono di un John Chris redento e onestamente mi fa piacere ci sta interessante queste erano le teorie queste erano le analisi e le conferme che sono apparse da questo nuovo teaser di Cobra Kai 5 mi è sfuggito qualcosa? oppure avete voi delle teorie che potrebbero essere importantissime per tutti noi che volete condividere? vi prego di farlo se sì fatelo chiaramente nei commenti io vi ricordo di lasciare un mi piace per sostenere il progetto dei video di Cobra Kai che come sapete carico e porto qui sul canale quando ci sono delle novità e questo era un caso lampante se no lo facevo qua non lo si fa ecco e inoltre di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei video che caricherò perché stiamo crescendo davvero tanto e questa community questo gruppo che si è creato è davvero molto piacevole e sono sicuro che anche voi stiate molto bene qui in mezzo a tutti noi per oggi il video termina qui noi ci vediamo al prossimo video ciao